Abbiamo espresso esattamente questa posizione al Presidente della Repubblica. La componente Noi con l'Italia è stata eletta nella coalizione di centrodestra e ha ribadito al Presidente della Repubblica che la coalizione di centrodestra ha la maggioranza relativa alla Camera dei Deputati e al Senato. È evidente che è una maggioranza relativa e quindi siamo in una democrazia parlamentare e il compito è quello di cercare una maggioranza in Parlamento per dare un Governo. E noi abbiamo sottolineato che mai come in questo momento sia necessario formare un Governo. Per far questo si parte da una maggioranza relativa, ma sui programmi si cerca il consenso come è giusto che sia e come è indispensabile verso altri. Noi con l'Italia ha ribadito che in questo momento Porreveti credo che sia la condizione peggiore per cercare di rispondere al compito che ci è stato affidato. Siamo stati eletti in una democrazia parlamentare e quindi oggi per tutti i partiti e i gruppi parlamentari il compito è di allargare la maggioranza perché l'attuale, ognuno di noi, la coalizione di centrodestra che ha la maggioranza relativa, il Movimento 5 Stelle che è il primo partito ma non ha la maggioranza relativa da sola non fa il Governo. E quindi noi con l'Italia sottolinea la disponibilità nella coalizione di centrodestra che dovrà attivarsi perché un Governo ci sia, un Governo su un programma fondamentale e che si apra e che cerca la convergenza ad altri. Senza Veti, non ci piacciono i Veti che sono stati posti, da parte di chi Veti non ne può porre semplicemente perché nessuno di noi può porre Veti, non avendo una maggioranza assoluta che permetta di avere in Parlamento i numeri per fare il Governo. Grazie 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 Grazie